no è vero però c'è una ragione di video che togli il sire ma ti è meglio così non te lo rubano ragionamento brutto e dolgo pure mordres tolgo magistro potrebbe essere una macchina di quelli che ti vedono il che donna che tico ma scherzi ma è uno scherzo del destino però mazza di 40 arti davanti retaccato e dov'è la blacklist delle carte a non esiste capo non è mai esistita però non è mai esistita delle carte ogni card game in fase di malligan a una cazzo di blacklist arson no toglie una carta la ritrovi l'altra ovviamente la copia perché una va in blacklist non ci va la povera questo è quello che mi ha detto il tipo di capelli blu di oggi io adesso di liste blacklist battuto guardi del cochi esattamente queste parole utilizzato era un pochetto più americano di me però il senso era quello io non posso dire un po super mare non posso credere che lui stia giocando cinghiale dopo questi incredibili aggiornamenti non non ci posso sabro mirano tra yarder pezzo di merda divertiti matti c'è un ragazzo che scrive c'è piromane che quando uccidi con il con l'euro power peschi una gara in combo con l'arca prendista peschi tutto peschi tanto sembra un po troppo il paio però mazzerà sì però maestro no 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 credo che sia un'altra piromane tipo 4 man 3 4 ah ho capito sì ma secondo me riga il mazzo deve avere le carte le carte dell'excelerò dell'excelerò fortissima abbiamo semplicemente aggiunto il pacchetto nuovo che vabbè vecchio peccato cinghiale non ci posso credere di come sta messa male la gente di oggi posto crede credi bambini buono matti elevato quel segreto c'è rega capite che io spero io spero che sia nata ma con la moneta dell'imperiduro non può essere nata vero no il problema è che questo che è un matchup impossibile per me perché non riesco capisco ancora te fai domande matti ok però siamo contenti di un fatto che probabilmente non è cinghiale credo no credo ancora te fai domande su quello che questa roba è sì questa roba è frozen drone l'anno della tela mi pare vorrei tanto pescare ma non posso quindi facciamo santo l'hp o segreto hp per poi fare in cuore calcano santuario alla sto punto è meglio farlo la santuario e il turno dopo possiamo fare tipo intelletto barriera ora il magistro ce l'ho ed è fortissimo quindi faremo magistro oddio rega come che si scopa magistro e di che matti la spella tua è uscita di tornata dobbiamo rifarci video con quella spella manca barnes ma non c'è barnes ma non è stato un bel momento te stanno riusci fuori i tic ma è una voglia non è stato un bel momento qua è come un guerriero del vietnam che ridica i disturbi dei post traumatici no però è stato un momento veramente pessimo è stato questo micchia però questa ti ricorda balsami sì esatto e poi tutto il resto è storia posso anche sta zitto c'è comunque devo fare magistro e io poi non credo che l'hp di jaina tiene traccia del magistro sapete che spella ho giocato io intretto arcano pesca 2 e va bene poi ho giocato turbinio e spella 4 tanta roba rega è tanta roba capo sicuramente arriviamo il 5 4 e poi troviamo il 4 2 nel frattempo il sire si prende i suoi buff nove carte netto non andiamo da perdono ma rega tutto bene finora non ho capito però che cazzo di mazzo sto giocando il tipo perché non è questo e sarà un riso rete con qualcosa di voglia di poco l'iccring o qualche cosa e risultati metri devo tenermi la luna e sarebbe carino pescare join io non ho che riga me lo dite voi magari qual è la sinergia con jaina ma secondo me lì reset l'hp presenta l'hp probabilmente vero sì 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 mettiamo secondo santuario frizziamo però è brutta sta roba allora non funziona la sinergia quindi devo togliere il magistrato mazzo mazzo ma è assurdo farne ma giusto la stanza c'è e folle toglie il magistrato troppo è troppo forte quando trovi uno c'è quando secondo te quello che trovi prima lo giochi e mattino in direzione me lo potete no nel momento del bisogno maravanti giocati che ci abbiamo però non gli eroi ma stasera fa forest no 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 the forest kaizu 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 tu madre audio ma è barriera pesco e passano in realtà possiamo anche fare il principe come il principe capo no perché principe è no 5 a capire chi vuoi il principe so proprio c'è paura che lui c'è lo sgarretto del mazzo capito rega ho fatto un po' un'anima axel salvaci da cosa? da hearston? purtroppo mi sa che non sono così forte dunque c'ho chat c'ho tutte eh lo possiamo testare matti viva se non funziona abbiamo perso vabbè c'hai c'hai coso matti vuoi sfruttare si chiama matti è uscito Apex comunque quanta gente sta buonasera buonasera Aldo scopiamo e poi me ne vado Aldo no allora ragazzi ho un importante annuncio da fare chi è morto? è morto qualcuno è morto oggi è morto take off eh lo so godo dai bombi no no punto sconativo take off senza godere un rapper un rapper un rapper il rapper dei micos non ho mai sentito una sua canzone però ma fatti c'è stato fai il criminale e muori prima o poi succede ma Aldo sai che uno ti dicono per una partita a dadi ha reagito male e si sono sparati no vabbè c'è stato è un saluto al VOD no bro ma tu è una partita a dadi non l'ha presa non l'ha presa molto bene ma che ridi bravo peccato peccato ovviamente ma tu una risata di gusto eh proprio già risata grassa proprio che giochiamo con i dati tipo gli esce 6M1 prende il ferro e mi spara se non lo so mi fa ridere il pensiero non so perché ma ti è quello più credibile in questo scenario possiamo cortesemente parlare di cose serie e Mattia esce il ferro possiamo aggiornare i punti stranativi dobbiamo vedere nella stessa maniera ma perché non gioca torno al segreto coglione Mattia peccato tu non abbia aggiornato Apex stai con un turbante Mattia è disgustoso ma stai tirando detto per il Legend no è che sono uscite le carte vecchie Aldo quelle serie quelle uscite 6-7 anni fa no Baron Gheadon hanno rimesso le carte vecchie come il nome Baron Gheadon già c'era però OP 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 IL NOSTRO PARONI IL NOSTRO PARONI IL LEACH KING ma ne più 7-5 ma ti metterò l'hanno baffato anni fa ma questo tutte ste carte LEACH KING no bro mentale aria fresca ma ma la decklist non è è la decklist si chiama no si chiama no guarda a destra che fordì no guarda a destra c'è stanno delle carte che non ti conosce il decktracker che chiamano che fordì no regà appassate la testa è entrato Is è entrato è entrato Is sai che ridere comunque regà regà le sching le sching la mia carta preferita la mia carta preferita l'unico motivo per cui tipo l'universo di World of Warcraft è accampato ho capito però su Alcon anche pure ma che è successo mi sa che il discord ha fatto ciao ha boomato la carta del gioco bro dai è sovravalutata capo su per favore ah allora buona sinergia allora regà noi sta partita l'abbiamo sempre vinta ma vogliamo giocare Gaina non lo so bro mi sa che Ico non mi ha bannato si perché oh l'ho capito solo ma ho tolto Ico perché non capivo poi anche secondo me ah regà noi possiamo fare Gaina solamente per il contenuto si senti quello è chiaro ma i due collaboratori qui hanno pensato che sarebbe meglio fare The Forest abbiamo abbagato un HP che fa sei danni ma per il condotto davvero è una bambina però ne fa due che ne comunque traccia dei fuoco brado capo quindi è buono eh regà io ando vorremmo fa The Forest ma se Mattia non gli va non gli va troppo no non mi ha fatto pure con Bramo dolci ma pure io ce l'ho pure lo ho comprato ma tu sei ricco ma anche tu comunque capo ti dicono che non è uccisione è una regola quindi funziona oh Iakital ha fatto un video tutta la verità la verità sull'eolico ah è vero sono un coglione è vero ormai è tutto un ripple kill mi flippa la testa a me sta cosa allora giochiamo di valore no? Sintragosa capo no capo no valore Sintragosa no valore beh è bello che ti gioco tanto valore io in questi casi giocare pure all'ibisolito tu no facciamo 10 carte non posso far ancora Sintragosa e famo all'ibisolito raga non perdiamo niente ok non so a me raga mi basta già mi è giocato già in game oh quello che succederà succederà il suo sembra essere un mazzo reso un right control un po' strano però sono contento che la gente non sia in tryhard vedi oh guarda che lui sta tipo nattando tutto stiamo a trovare soluzioni botta a botta raga iniziate a attire le pippette perché l'apprendizia adesso darà veramente ma questo ha giocato solo sta carte io non ho capito è normale però se basa sono sul neptuno praticamente bello solito ma una domanda il sire quanti anni fa 12 25 abbiamo quasi vinto ma sti cazzi capo il contenuto ma ti quando arriva l'attrezzatura mordres mordres capomo mordres pusie venerdì 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 appena finisce il turno perché non ti aspetta la ropa fa la del tizio no no spella 9 va bene famo morderci eccolo è pussi come mostra capo dai bro dai su il gesto game perché non hai fatto a capi faccia perché costa zero zero umana me lo voglio tenere lasciami ragionare infatti vinciamo sempre metterlo dopo però ho vinto con la rega con ex dai con ex voglio fare leggende porca puttana eh poi facciamo un'altra e gioco sidragosa e c'è il buono video allora io comunque regal lascerei magistro e già inato lo stesso mazzo ma ci sei troppo forte secondo me a seconda di quello che trovi prima ti può cambiare essendo un mazzo a 40 carte ti cambia la partita faccio un altro win con il mage un'altra win dopodiché capiamo se vogliamo andare tipo su paper please oppure se vogliamo provare un altro mazzo io se c'ho du mazzo e perché upterai proprio un altro mazzo no cazzo provante male male fai quello che vuoi c'è nel senso basta che lo so se l'anpermi gioca il di k faccio una sega in live oggi sapevamo che somma ma quando lo sapevamo oggi arson avrebbe partecipato in maniera importante alla tua giornata è vero bro ma se non fosse stato per questa cosa non l'avrei giocato eh ho capito però non sei giocato io voglio di solo che mi dispiano perché Aldo speravamo realmente di poter fare del gameplay di su The Forest assieme si si però c'è tempo si prendo tua madre e gli apro la testa in due no sentiremo la frase di Aldo c'è tempo lo giocheremo domani per il prossimo mese secondo me io domani devo pippare no io la mia pazienza ovviamente la mia pazienza ovviamente ha un limite se poi Mattia non si sa gestire il tempo so cazzi suo come devi metti a saltarmi in questo modo no nel senso io una certa sparisco non è che posso stare ad aspettare a te tomate puttana ma come sparisci ma dove vai ma dove vai potesco mi attivo piggi ragazzi purtroppo ancora non abbiamo le odizie giorno 27 piggia ancora avrà le sue motivazioni Aldo posa tutto posa posa no capa no lei deve pescare questa e tu frizza ora lei ne pesca cosa turbinio è così già me lo vede veramente bro al massimo poco brado ma vabbè in realtà ci piace come la domanda che sussicura 100% che ti mancava quando sarà disponibile per telefono l'aggiornamento pronti capo c'è l'espansione capo che ora esce l'espansione leviamo sta mano infusione vogliamo solo il sire eccolo qua molto bene per viso la spella 9 per viso alibi principe giocabile penso che peschiamo due fuoco brado è meglio barbino fuoco brado o doppio trade oddio tenerti un 2-2 e usa l'iro power forse tenermi un 2-2 bah secondo me è meglio fare sempre poco brado no 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 mi piacciamo barbino fuoco brado mi piace di più pure a me poi vediamo oh magari mi da qualcosa allora non ci si mi fanno schifo posso dirlo l'hai detto e perché parli sempre con river ma perché infatti i liberi andanno a collaterale vuol dire Bible ebook allora dipende quello che fa lui perché Bible ebook ci potrebbe vincere il game poche fa 3 hp fa 3 danni o donazione no non bene ma la mano è un po' pesante no? molto pesante non vedo tutto il deck che è un po' pesante proprio il fatto è che se non usi alibi adesso quando lo usi Mattia visto proprio che tutto come dici te è pesante se io faccio soffia neve e non faccio hp lui come lo tratta il soffia neve secondo te? col 5-4 probabilmente no? quindi il turno possiamo fare hp sul d4 spella 6 ma secondo me qua l'hp non si fa allora no vai alibi lo faccio prima del turno io alibi devo farlo al turno 8 però non ho altri modi devo fare turno 8 alibi 9 runa e poi sire una roba del genere poi il 2-3 potrebbe anche non trattarmelo eh però se me lo trattavo il 5-4 fa il nostro giochino simpatico alla grande capo abbiamo 3-2-2 4 danni questa si su me bisogna giocarla così ora il turno dopo facciamo alibi e poi dopo si prega con la runa cioè la mano prima fa cagare dovrebbe essere un po' gridi anche se sono contro Hunter tanto in teoria nonostante l'abbia adeggiata ancora fortissima da fare pizzeia sto iniziando un po' in nervosire vabbè devi sperare che con la spell a 9 ti esce quella che fa tutte pecore pensa di domare mai faccio i più stretti mi sembra ci siamo guardati ok è un modo tocco a dire al runa cioè il fatto è che la suborda è veramente pessima pessimo gusto devo far runa in tu sire il fatto che il sire non fa nemmeno così tanti dati non fa cioè oh sta roba qua mi claccia il game cioè in realtà basterebbe un top di blizzard noi siamo a cavallo ma è un'altra c'è perché no ma lui fa prima il 3d poi attaccavo il 4-1 ovvio perché sapeva che non muore è chiaro blizzard però blizzard e siamo nazi se esce dalla spell a 9 ci sta o del mazzo guarda quanto sta al sire? 14 quindi ah troppo basso e se fai la giocata gridi quella lì congela giusto? eh mattino eh? quella che è top deckato congela si ma non so se fai la giocata gridi e metti bran e congeli tutto eh ok con bran io ammazzo io non so eh no perché poi rievoca il run o congeli basta o no non faccio nient'altro eh ma bran no ma bran lo giocarei adesso ah perché tu se io faccio bran varden si rievoca il 5-5 vabbè vabbè può far pure il contrario io parlavo per bran per dopo col sire vabbè potevi fare se ci mancava uno al no brina rossa mamma mamma mia brina rossa bro a meno che non mi evoca la seconda uno blizzard blizzard ok adesso la tua giocata di bran no vabbè non ha senso no in realtà la mia giocata era per giocare bran a bordo piena sua e fare il sire al turno dopo era per fare quella ok ok però ok la tua giocata era giocare varden e poi bran si no però dai cioè si ma non potevi traddare qualcuno con l'irobar frizzavi tutte per poi aver il sire dopo matti quello intendevo io oh no non è proprio ma che serva da solo alci ma com'è possibile sempre c'ervi capo puttana di guarda mostruoso cazzo no 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 eh qua la giocata sef è sì com'è che com'è che com'è che faceva la canzone Aldo beh oddio se frizzi la sua board è vero che gridi tanto però potresti anche aspettare un turno forse però è gridi tanto sì quello sì allora se io faccio brambardan e te l'ado tutto lui c'ha già tre danni via c'è più hp sono cinque ma io in realtà non devi traddare tutto io frizzerei tutto così non gli dai spazio per mettere cose a lui e giocherei brann come ho detto prima e dopo te curi dei più sempre se arrivi a dopo quello sì cioè fare varden brann fare varden brann per avere consigliate per brann il turno sì o comunque almeno dopo io fai fa dopo pulisci cioè chi crush non lo potrebbe vocare bro eh se lasci tutto frizzato non ha spazio è la giocata di che lo sa l'ha senso perché lui vuole la faccia ormai non c'ho più tempo allora è pazza ma va bene ci provo l'ha giocata di cosa secondo me c'è sta anche perché comunque metti che te vuole focus a brann comunque usa risorse su brann ma mi fai disgusto mi fai un turbante più grande più lungo no la pelle è 9 ora questo potrebbe cantare da ripiare va bene va bene oh ok questo potrebbe essere un problema mattia no godo godo dammi perlomeno dammi culo ma dai che schifo ok questo non era in previsione era un problema ma parola mia alibi turpidio caso archiviato man letteralmente l'unica doveva rollarmi era la spalla 9 che doveva rollarmi il turno prima adesso c'è c'è chi c'è come out ah ma che c'è un segreto una però mamma mia l'ho giocata che sono super senso era molto bello era fichissima cioè era di stallare a board non potò giocare al pezzo ok non ha non lo devi troppo forte come se raccorgi da brand magari se raccorgi però men che scarogna ora anche se trovate in classe non lo può giocare no non ci credo non ci posso crede bro se vince così da matti rune esplosi sono tre che lì forse non ha preso brand però magari mica 200 è vero 1 3 non esplosi vinto brand l'ital è solo saburo so contento vedi la vedi la così c'è 2 hp in più ma no sono contento ok devo fare il sì e poi devi frizzare il 5 5 era veramente una bella play lo sa la tua veramente figa bro figa 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 non l'avo letta dove è sto adesso però anche vedi quando tu entri nel mio gameplay che ti succede pure a te a me contro matti sono sempre piaciuti cioè raga la tua giocata che gli impediva saburo ti piegò ma che è che abbiamo le amici a tu fisico ma non ho letto la chat raga io lo sto dire al turno prima non l'ho detta solo adesso voglio farmi scoprire da un mazzo contro ovvio è una partita malissima come fa scopare da contro il volo raffittivo no 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 scherzo è il 18 di mani che raccontiamo allora va bene la cazzo magistro al capo possiamo fare blanch brand in realtà possiamo fare semplicemente brand urbino cioè va bene brand avete capito oppure magistro magistro che rigasta magistro che si prega a spell a 9 o non è una cosa no 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 ma brina rossa che è brina rossa è spell di ground non è il magistro di casa sicuramente vabbè fuoco brado oppure giochiamo il re delice dalla pace di oggi mister brod brod la magia vai giochiamo re delice mi piace mi piace lo sapete perché mi piace delice perché mi può dare una voe il leech mi può dare una voe che va a distruggere il suo novemano non me l'ha data però starma è forte perché non ha più gli orsipolari raga il gregato vabbè raga gioca da solo con il mazzo cioè non penso che possiamo più perdere non parla e oddio il 555 che ritorna ogni volta va da noia però vanno a più board anche perché qua basterebbe adesso semplicemente tocqueccare un boom order anche però che potevi a parte che c'è 18 danni quindi forza a giocare del ragazzo non lo so però potevi rubagli al 55 eh no non so se regala agilità di ma deve morire per un bel pezzo ok sarà veramente copiato eh ma ti c'era scritto qualcosa ce l'era scritto qualcosa sotto io non so cosa c'era scritto te l'ho detto per questo e faccia no però me sa che vi devo essere più modo per non ha più bordo che il capo non ha più bordo eh no 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 sì sì non posso vincere man teo è deleterio fa cagare teo magisto e prego anche perché non c'è niente mi sa che te posso aiutare cioè l'unica sarebbe divoratore ma in chat ti scrivevano l'ital come come dove non lo so 4 più 5 9 è una scritta 4 di come ma c'è un taunt ragazzi ma c'è un taunt che ne so io leggo la chat che ne so io so rispondi alla chat e non a te non lo so rega non capisco c'è il taunt ragazzi beh hai congelato tutto dai l'andiamo a vincere ma ti stai zitto che hai giocato l'altro ma ma si è scongelato tutto si è scongelato ragazzo ma poi vabbè a parte che cambia poco ragazzi giocava il tizio a 1 però si potevi giocarlo il drop a 1 o era per teo non ho out il problema è che se tu back of wizard non me la fa giocare no? il fatto è che se non ho sbagliato a contare se tu frizzi il 18 è l'ital perfetto comunque se non ho sbagliato a contare anche alibi c'eresti ok io ho paura faccia capo io ho paura faccia veloce veloce ma sul se non ha preso la spell no bro dai con chi sto giocando che mi è alfo no è over little ok ok ma no ma io lo frizzavo il 1814 non era l'ital no 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 era io avevo contato che era l'ital perfetto però Dario dice che era over little può essere contato male io 5,7 10,15 no bro non ce l'aveva l'HP bombe perché l'HP è quello di evoca le cose regà non era lì erano 26 anni no no fa due anni erano 26 anni ho contato l'arma più i danni senza il 18 e a me mi riportava 23 erano 29 quando editerò quando editerò questo video saprò in questo momento se ho detto una cazzata o meno hai detto una cazzata hai detto una cazzata grazie a tutti Grazie a tutti.